Musica Si è spostata a Torino la protesta del movimento Notave contro l'ampliamento del cantiere di Chiomonte per costruire il tunnel esplorativo della futura Torino-Lione. Una trentina di attivisti hanno manifestato davanti alla regione e alla RAI con bandiere e megafoni. Ieri nel cantiere della Maddalena i lavori erano stati rallentati da giovani che si erano arrampicati sulle ruspe e da due blocchi all'autostrada del Frejus nel pomeriggio e nella notte. Il traffico era ripreso solo verso l'una. In serata una parte della recinzione era stata divelta, la polizia è intervenuta, un attivista è rimasto ferito ed è stato fermato. Queste sono immagini dal sito del movimento Notave. Sabato notte è stata incendiata la porta dell'ufficio del sindaco Renzo Pinard, del sindaco di Chiomonte, vittima dell'ennesima intimidazione, mentre su un capannone è comparsa una scritta che inneggia le Brigate Rosse. Intanto l'ampliamento del cantiere è proseguito. Grazie a tutti.